Ok, ciao a tutti, mi chiamo Marco Vigellini e sono un educatore che utilizza Minecraft a scuola, nelle scuole. Volevo presentarvi in anteprima suda questo progetto che ho avuto il modo e la possibilità di creare partendo da zero con il supporto di importanti Minecraft Builder, società impegnate nella condivisione di creatività per ragazzi e quindi far diventare loro parte attiva nei confronti delle nuove tecnologie e riceveremo il supporto anche da importanti YouTuber. Dove ci troviamo? Vediamo se riusciamo a dare uno sguardo in questa fantastica città, ve lo dico, è la mia città preferita. Siamo nel pieno centro di Firenze. Come potete osservare, siamo di fronte al palazzo comunale, palazzo vecchio e cominciamo a fare un giro in questo fantastico mondo. Potrei fermarmi in questo bellissimo posto, però continuiamo ad andare avanti. Allora, questo è un progetto che si... questo mondo verrà reso disponibile a tutti a partire, credo, da lunedì 22 maggio, quindi fra una settimana. Oggi è il 13 maggio. Il team di costruttori Shapescape sta ultimando questo capolavoro artistico, perché questo è soltanto un vero e proprio capolavoro artistico. Hanno ricostruito buona parte della città di Firenze in Minecraft. E vediamo un po' se io... ecco, questo sono io, con la mia cravatta Minecraft. E vediamo se riuscendo a volare siamo un po' più veloci. Vediamo da dove stavo vedendo, speriamo di non tornare indietro. Vorrei farvi vedere... Un'altra parte molto bella di questa... ecco, ok, si incomincia a vedere il tutto, io abbassero lo sguardo così vi faremo una sorpresa. Ok, cammino all'indietro. E tra un po' vediamo, vediamo... Ok, sì, non ve lo faccio vedere, ve lo faccio vedere da qua, perché è veramente fatto bene. Guardate che cavolo ha l'uomo. Ok. È fantastico. Veramente impressionante. Allora, qui praticamente noi ci troviamo, ovviamente, in piazza del Duomo, a Firenze. Come potete osservare, abbiamo di fronte a noi il famoso Battistero di San Giovanni Battista, che è tra l'altro il patrono della città di Firenze. Qui abbiamo, ovviamente, l'altrettanto famoso, che è fantastica questa visione. Allora, a parte il fatto che è una struttura imponente, alta circa 100 metri, visitabile per circa 90 metri, mi sembra. È visitabile, ci sono stato di recente, ecco perché mi ricordo queste informazioni. Questa è la torre campanaria, il campanile di Giotto. Ci sono le vecchie campane del Duomo di Firenze. Questa è praticamente la cattedrale di Santa Maria del Fiore, che è una, forse, anzi, sicuramente la terza chiesa più grande d'Europa, imponente. Questa cattedrale è per imponenza dietro soltanto, ovviamente, a San Pietro in Roma e alla chiesa di San Paolo che abbiamo a Londra. Eccomi, ma che bello, sto volando, wow! No, è fantastica, è assolutamente fantastica. Blocco dopo blocco, i ragazzi di Shapescape sono veramente degli artisti. Un capolavoro. Torre di Giotto, cosa volevo dirvi? Ah, ok, l'entrata, quando volete andare a visitare, si trova da questa parte. Si può visitare, ecco un ragazzo che stava costruendo e passato al volo. Si può visitare, è assolutamente da visitare. Io soffro di vertigini tanto e sono riuscito a visitarla tutta, ne valeva assolutamente la pena. E arrivato in cima suonarono anche le campane. Bellissima esperienza. Vediamo adesso dove vi posso portare. Andiamo, sì, torniamo nuovamente a Palazzo Vecchio. Tanto voi, ovviamente, guardatevi intorno perché è una cosa fantastica. Cerco di muovere piano la mia visuale così potete osservare i dettagli di questa ricostruzione. Vi ricordo che questo mondo verrà reso disponibile alla comunità dei piccoli giocatori Minecraft a partire dal lunedì 22 maggio, non mi ricordo. Sarà reso a disposizione, credo, sul sito del Museo 900 o dall'associazione Muse che hanno creduto in questa iniziativa. Qual è questa iniziativa? quella di poter avvicinare all'arte i nostri ragazzi giocando. Ok? Questo ovviamente è piazza della signoria. Come dicevo, è sede... Questo è Palazzo Vecchio dove ha sede il sindaco di Firenze, il comune di Firenze e anche dell'associazione stessa Muse Firenze che ha creduto, ripeto, in questa iniziativa. Vediamo dove vi posso portare. No, non vi voglio portare qui sulla destra. Vi vorrei portare qui in fondo dove c'è un famoso punto gastronomico, l'antico vinaio assolutamente da provare. I loro panini sono eccezionali. Allora, qua siamo praticamente al piazzale degli Uffizi. Questa rappresenta la struttura della Galleria degli Uffizi. E... Fantastico. Ma dà del bel effetto. Bellissimo. Qui, come potete vedere, se conoscete il posto, mancano ancora diverse statue che sono, diciamo, esposte in questo piazzale. Il Museo degli Uffizi è ovviamente uno dei musei più importanti al mondo. Le statue che potete trovare in questo piazzale sono quelle, diciamo, di personaggi che hanno reso Firenze famosa in tutto il mondo. Cosimo dei Medici, Lorenzo dei Medici, ovviamente tra i mercanti, la famiglia più famosa di Firenze. Guardate che bellissima visuale. E poi ci sono artisti come Giotto, Michelangelo, poeti, grande poeta Dante Alirghieri, Donatello, Leonardo da Vinci, scienziati come Galileo Galilei, Machiavelli, poi chi ci sono? Ci sono circa, mi sembra, una trentina di statue. Vediamo se riusciamo a passare qui intorno. Bellissimo, guardate. Dicevo Petrarca, Boccaccio, non ricordo se ho già citato Michelangelo, c'è la statua di Amerigo Vespucci. Ok, affacciamoci sull'Arno, il fiume di Firenze. Sì, questa dovrebbe essere la galleria che porta a Ponte Vecchio. Vediamo se riusciamo, che la distanza di renderizzazione è impostata a 12, ma credo che sia più che sufficiente per mostrare la bellezza di questo scorcio con il Ponte Vecchio che si riflette sul fiume Arno che passa attraverso la città di Firenze. Se ho sbagliato, ok, mi avevo lisciato la mia tastiera. Ponte Vecchio sicuramente è uno dei ponti più famosi al mondo. È uno dei ponti più famosi al mondo. Nuovamente la mia ombra riflessa. Attraversa, dicevo, il fiume Arno e qui abbiamo il corridoio costruito dall'architetto Vasari il cui obiettivo era quello di collegare praticamente il centro politico che poi era rappresentato dal Palazzo Vecchio con, ecco, vedi, se si passava qua sopra questo corridoio che è circa lungo un chilometro porta fino alla casa della famiglia dei medici che è praticamente Palazzo Pitti che è dall'altro lato di questo del ponte io sto passando sul Ponte Vecchio adesso ed è una zona che ancora i ragazzi devono costruire e credo che non costruiranno perché abbiamo deciso di limitarci al centro cittadino di Firenze fermandoci a questa riva che, diciamo, è sinistra dal punto di vista in cui io sto guardando quindi Palazzo Pitti non verrà ricostruito invito poi i giocatori che scaricheranno questo mondo magari a dare il proprio contributo a completare appunto questa bellissima esperienza di gioco educativa vediamo se riusciamo ad arrivare nuovamente a Palazzo Vecchio io non comincio a volare altrimenti mi perdo ok, perché vorrei arrivare a Piazza della Repubblica che dovrebbe trovarsi da queste parti preferisco volare perché altrimenti mi perdo dovrebbe trovarsi da questa parte vediamo un po' mi sono perso perfetto vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po' se la trovo non riesco a trovare Piazza della Repubblica si vede che non sono un cittadino di Firenze ok, comunque, come vedete c'è l'intera città di Firenze ricostruita è ancora in costruzione eccolo un costruttore, ciao eccoli qua, due stanno costruendo ciao, ciao allora, io mi sono decisamente perso vedete come viaggiano velocemente io direi adesso di mettermi in pausa perché voglio condurvi a Piazza della Repubblica quindi metto in pausa, vedo, verifico dove si trova fisicamente e poi continuiamo ok la voglia di accercare che era da questo lato vediamo se riusciamo a trovarlo perché comunque ho visto soltanto su Google Maps vediamo se riesco a individuarla la piazza mi sembra di sì dovrebbe stare di qua ok ok via corriamo e di qui c'è l'entrata ops liscio eccola va ok sono entrato dal lato sbagliato e vediamo se riesco a scendere ok questa questa piazza era diciamo la piazza della della città sia sin dal dall'origine della città stessa in in epoca romana e fu poi come si dice fu resa in questa in questa forma quando fu trasferita la capitale d'Italia in in Firenze 1865 e basta credo e ha una forma ovviamente rettangolata come potete vedere e proviamo a dirigerci voglio mettermi in questa visuale vogliamo però è lungo la via degli strozzi dovrebbe essere e qui a sinistra in fondo alla strada c'è l'importante palazzo rinascimentale enorme che è palazzo strozzi enorme il cortile dall'alto tutto ricostruito fedelmente via invasione proprietà privata bellissimo e F5 ok ciao a tutti sono dentro palazzo strozzi ok F5 di nuovo riprendiamo la nostra visita e dirigiamoci se riesco fatemi vedere dov'è ok di qua quella dovrebbe essere forse via del sole vediamo un po' si dovrebbe essere questa che scorcio e che ci dovrebbe portare in in un'altra famosa piazza vediamo se riusciamo a trovarla ehi c'è un altro costruttore ciao ciao andiamo all'opera guardate dov'è è scomparso eccolo velocissimi ok sì credo di ok perfetto siamo alle spalle del museo novecento che è questo qui qua dentro verranno fatte bellissimo ragazzi delle attività che adesso vi racconterò e che sono state quelle che hanno poi dato il via a questa iniziativa qui siamo ovviamente in di fronte alla basilica di santa maria novella questa è la famosa piazza e questa basilica sto ricordando dovrebbe essere fa riferimento all'ordine dei dominicani mentre quella di per esempio la basilica di santa croce fa riferimento a quella dei francescani mentre quella di qua sopra non so che cosa sta volando è sicuramente una struttura che serve da per terminare diciamo la costruzione da copiare incollare insomma mentre dicevo la basilica la chiesa di santo spirito fa riferimento all'ordine agostiniano credo si dica costruita su un convento agostiniano ok ci troviamo di fronte al museo 900 il museo 900 è un fammi fatemi mettere ok in questa come si muovono tanto vento oggi a Firenze vediamo un po' ehi e torno un po' indietro mi voglio mettere vicino al museo 900 che diciamo è un museo dedicato all'arte italiana ovviamente del ventesimo secolo è un museo ricco di collezioni di mostre promotori di diversi percorsi formativi io sul sito www.museo900.it ho trovato veramente tanti percorsi educativi e diciamo nel in questo spirito di innovazione hanno sposato la causa minecraft e l'arte in questa galleria nelle giornate del 20 e del 21 i ragazzi ospiti del museo 900 del vero museo 900 fisicamente insomma in quelle giornate creeranno delle realizzazioni artistiche disegni per esempio oppure delle realizzazioni artistiche in realtà immersiva e queste realizzazioni noi le prenderemo le digitalizzeremo e attraverso la mod offerta e realizzata dalla piattaforma sociale creativa creatables le inseriremo nel giorno stile in quei giorni subito all'interno del museo 900 virtuale costruito in minecraft quindi in quella giornata passeremo dal mondo fisico al mondo virtuale daremo ai ragazzi che parteciperanno di esporre virtualmente all'interno del museo 900 rendendo così i ragazzi protagonisti attivi anche nei confronti dell'arte saranno veramente dei pittori non vedo l'ora che venga dato seguito a questo progetto siamo a disposizione per realizzarne altri perché l'Italia è sicuramente la nazione che è stata la culla dell'arte e i nostri ragazzi devono diventare parte attiva dal mio punto di vista anche attraverso l'uso delle tecnologie con l'arte io vi saluto spero che chi ha seguito possa aver trovato nuovi spunti per l'utilizzo di minecraft come strumento educativo nuovamente i miei riferimenti li trovate sul sui twitter per esempio Marco Vigellini global minecraft mentor vi saluto e alla prossima